Prima che inizi il video ragazzi vi devo dire una cosa molto importante, su MarciVlog si è appena uscito un video davvero importante, vi lascio il link nella descrizione e lo trovate anche nelle schermate finali dopo il video, vi aspetto. Burloni, oggi nella Big Vanilla probabilmente scopriremo qualcosa di più riguardo all'uomo misterioso e non vedo l'ora di scoprire qualcosa perché finalmente siamo molto molto vicini alla conclusione di chi mi sta incastrando. Questa cosa ragazzi vi sta mettendo tantissima ansia ma la sta mettendo tantissimo anche a me perché non riesco a capire chi diamine voglia incastrarmi e perché voglia incastrarmi realmente. Comunque prima di iniziare ragazzi, ve lo devo ricordare ogni volta, prendiamo il disinfettantino, ce lo mettiamo all'interno delle mani, lo utilizziamo e intanto vi chiedo facendo così, dovete iscrivervi al mio canale perché siamo vicini al milione e ci saranno tantissimi speciali che non potrete assolutamente perdervi. Ma dobbiamo andare avanti ragazzi, allora prima cosa voglio andare a prendermi del cibo decente perché mi avete detto Marci basta me ne do, hai la farm di pollicotti basta me ne do, basta basta me ne do, dopo andiamo a leggerci il cibo ma dopo. Prima andiamo a prenderci il cibo ok? Io sono d'accordo con voi, ci prendiamo il pollo cotto e guarda quanto ce n'è qua dentro, 64, questo lo lasciamo qui. Ho deciso che le carote d'oro non le utilizzano più, va bene? Basta che bello questo tunnel però veramente troppo bello. Ora saliamo perché all'interno della cesta c'è un libro che io questa volta ho deciso di non leggere prima di averlo letto con voi perché mi sembrava bello avere la reazione spontanea di quello che succedeva perché ogni volta me li spoilerò e poi faccio finta di dire eh non l'avevo letto invece l'avevo letto. Quindi saliamo, 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 giriamo subito e ok eccoci qua ragazzi andiamo a leggere il libro, vediamo cosa c'è scritto. Allora, bravo ragazzo, hai deciso di fare ciò che ti avevo detto, alle 13 saprai la tua risposta, vieni alle 13 di domenica a queste coordinate. Meno 5.432, 6.728. Porta un tridente con channeling. Il tridente ne ho solo uno, volevo farcela live questa sera, porca miseria. È qualcuno che mi conosce bene perché sa del tridente ragazzi, diamine. Va bene ragazzi, ci andiamo e siamo pronti per tutto. Io qua c'ho il mio tridente, lo dobbiamo andare subito ad incantare, solo che io non so se ho tanti lapislazoli da parte. E non me lo ricordo ragazzi, lapislazoli mi sa che non ne ho abbastanza. Mi sa che sono tutti nel land, quindi a questo punto andiamo nel land e vediamo un pochettino la situazione. Ma prima di andare nel land voglio passare prima dalla casa tigre, insomma dalla città tigre di Kendall per farvi vedere un pochettino l'idea di quello che voglio fare adesso. Perché dobbiamo finire la torre ragazzi, dobbiamo finire diamine la torre. E la torre è esattamente da questa parte, a parte che qui ho inserito l'ingresso più bellino per Kendall, speriamo che gli piaccia. E poi qua dobbiamo farci un ponticello. Io non sono andato avanti ragazzi perché ho letto tantissimi vostri commenti che mi dicevano Marci guarda il davanti è molto bello, cioè sei ma un sacco bravo così lo so ragazzi, grazie mille, sono bravissimo. Un bacione a tutti voi, un abbraccione ai miei burloni preferiti tutti, siete tutti i miei preferiti. Mi avete detto però di fare questa cosa qui dal piano di sopra, è una cosa che avevo già detto nel video ragazzi, forse in quello di Kendall, non ricordo. Ma questa parte qua sarà tutta fatta a porte come se si volesse entrare all'interno della torre, in questo caso lo faremo in questo modo qua. Quindi ora, siccome è presto, sono le 12 e 23, mi porto avanti, provo a fare il piano di sopra e vediamo che cosa viene fuori. Io qui sopra andrei di solita cosa, ovvero saliamo di 5 e facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. E 5, facciamo un po' nero, un po' arancione, 1, 2, 3, 4 e 5, è tutto nero, invece qua lo facciamo più arancione, 1, 2, 3, 4 e 5. E facciamo tutto così ragazzi, per vedere un pochettino che cosa viene fuori. Secondo me viene fuori una cosa super mega bella e qua possiamo fare così, vediamo se ci piace come è venuto fuori. Ma è bellissimo ragazzi, ma è bellissimo! Ragazzi, ho appena finito di fare questa cosa qua, ma guardate chi è entrato nel server, è entrato Marco e manca pochissimo tempo alle 13. Non vorrei che Marco c'entri qualcosa, anche perché sarebbe veramente molto, molto, molto strano ragazzi che Marco c'entri qualcosa. Anche perché secondo me non ti fai vedere, secondo me, se sei tu, quindi non lo so. Non ho dubbi su Marco, però non si sa mai. Comunque, questo sarà come verrà la torre, devo capire se voglio fare la stessa cosa di questa cosa qui anche sopra. Ora ci provo e vediamo un pochettino, anche perché è bella, ma secondo me possiamo variare il centro, ovvero qua mettere Shroomlight, Sea Lantern, Shroomlight, Sea Lantern. Vediamo un pochettino, Sea Lantern non ne ho tantissimo. Allora, sinceramente, non lo so, mi piace tantissimo, mi piace tanto con la Sea Lantern lì, eh, al posto che lo Shroomlight fare 1-1. La cosa che mi piace di meno, sapete qual è? È il centro ragazzi, vedete che diventa doppio così? Non lo so, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, ma siccome è già super mega tardi, io vi direi che dobbiamo assolutamente andare nel land, dobbiamo andare nel land per fare il tridente ragazzi, perché sennò è un casino. Allora, qua prendiamo così e andiamo nel land per fare il tridente bellissimo. È sempre bello prendere e scendere qui. Ma che cavolo hanno combinato qua? Allora, vediamo cosa ci esce subito, dai, su, 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 Loyalty 3 e Imp. Questo in realtà è un bel tridente, ma noi vogliamo con Channeling purtroppo. Riptide, Riptide 3, non ci piace neanche questo, noi vogliamo... Lui ce l'ha chiesto con... con cosa ce l'ha chiesto ragazzi con Channeling, giusto? Però questo esce solo con... Mannaccia, annaccia, uno con Channeling non esce. Porcaccina, la miseriaccina. Loyalty Impaling. No, ragazzi, vedete che non mi esce? Vuoi vedere che non mi esce con Channeling? Ma se non è possibile che Channeling sia il tridente? Allora, ho controllato, sì, sì, era Channeling e quello lì del... del full. Mi ricordavo bene, però ho detto, non lo dico mica che faccio un fail incredibile. Channeling, signor Channeling, niente Channeling. Potrebbe essere un problema questa cosa ragazzi, potrebbe totalmente essere un problema. Ma però va bene così. Loyalty 3 va bene. Quanto dobbiamo... quanto dobbiamo aspettare ancora? Dobbiamo aspettare 6 anni, virgola 5? Oh, le... oh... Channeling! 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 Loyalty 3 Impaling 5! What? Ragazzi! Oddio, che tridente! Io non sono sicuro di voglia dare questo tridente in pasto ai nemici, perché sarà sicuramente un nemico questa persona. Vado! Ragazzi, dobbiamo andare a quelle coordinate, che sono lontanissime peraltro. Allora, ossidiana, flint and steel presi. Ho deciso che andrò brutalmente tramite il nether. Ho fatto il calco, dobbiamo andare a meno 670... 840, quindi non è lontanissimo, non è nemmeno vicinissimo, obiettivamente. Il tridente l'ho portato, che me l'aveva richiesto nel libro. Allora, dobbiamo andare a meno... Meno 678. Meno dov'è? Meno dov'è? Meno di qua? No, meno di qua. Meno di qua. No, meno di qua. Dove devo andare? Ah, meno è da questa parte, ok. Meno più devo andare, quindi meno più di là devo andare. Perfetto. Meno 678, 841. Dovrebbe essere abbastanza semplice, vediamo un po'. Andiamo. Vediamo se ce la facciamo, ragazzi. Perché tanto basta fare poi il portale da lì e in teoria ci ritroviamo giusti. L'unico problema è che vedete che non carica molto bene i chunk. E l'altro problema è che sono molto in anticipo, ragazzi, perché sono i 47. Spero che non sia un problema il fatto di essere in anticipo. Ok. Allora, dovremmo esserci perché siamo meno 670, meno 844. Credo che va benissimo lo stesso. Adesso, mi spiace che non sono nel punto preciso, ma chi se ne frega, ragazzi. Chi se ne frega del punto preciso. Ok, facciamo così. Ok. E qua dovremmo chiudere. Vediamo un po'. C'è il feed si l'ho preso, sì. Ok. Possiamo, andiamo. Vediamo un po' che cosa c'è in questo posto. Voglio vedere chi diamine è. Ok, siamo in una... Siamo in una... Una savana. Ok, lì c'è una struttura. Vediamo un po' che c'è. C'è un nome! C'è un nome! C'è Loco. Ma che cavolo... Loco? Ma non era nel server prima? Ma perché adesso c'è Loco nel server? Non l'avevo visto prima. TS subito. Subito! Da marce. Loco? E me? Perché sei qua? Nella savana? Ti vedo. Ma dove? Cosa ci faccio qua? Cosa vuoi? Mi hai scritto i tuoi libri, Loco. Ma che cavolo? Perché... Sei tu? Perché sei qua? Ti ho sgamato, Loco! Ma quando sei entrato non c'è prima, ti giuro, non c'era il tuo nome nel server. Marci, io ho i miei trucchi tranquillo. Ok. Sei tu quindi lo snitcher? Quello che sa le cose? Non volevo snitchare, Marci, è... Cioè, non è la colpa mia. Ma almeno stai registrando un video su sta cosa? No, perché dovrei registrare? Ma se, questo si ti... Loco, ti giuro, mi hai fatto rimanere malissimo. Ma quindi sei tu che mi hai scritto i libri? Sì, te lo scritti i libri, però non volevo... Cioè, non volevo snitchare. Attenti, sono un creeper! Ma perché volevi tutta quella roba, scusami? Eh, perché... Volevo un po' di materiali così, era... Una scusa. Loco, dovevo diamine immaginarlo, che... Dovevo immaginarlo, che... Però adesso, ora che sono qua, mi devi dire chi è che entra in casa mia, cioè... È una persona molto vicina, però... Non sono sicuro al 100% sia lui. Baddi. Come hai fatto a capirlo? Mi hai mandato nel regno oscuro, hai fatto la corona oscura, come faceva a non capirlo, scusami? Poteva essere qualcun altro. Ma la mia domanda è... Ma tu sei anche l'altro uomo misterioso che mi scriveva le cose ai tempi? Chi è l'uomo misterioso? Non ho mai fatto nulla io. Ok, ragazzi. Non è lui. Comunque il tridente corner channeling non te lo do, mi dispiace. Dai! Adesso che ho scoperto che sei te, proprio non te lo do. Sono più tridente, mi dispiace. Mi dispiace, mi basta solo sapere che è Baddi. E mi basta sapere che sei tu. Penso sia Baddi. Non so se... Tu sei l'altro uomo misterioso. Che è l'altro uomo misterioso? Benissimo. Ragazzi, noi adesso ce ne andiamo e torniamo a casa e Loco... Bravo, Loco. Complimenti. Bello sapere che... Ragazzi, voi avreste mai immaginato fosse Loco la persona che... Dimmi. Non sono sicuro al 100% di queste parole. Ricordati, ormai l'hai accusato e hai snitchato. Ora andrò da Baddi. Prossimo episodio da Baddi, ragazzi. Da Marce è tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.